Lunedì 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale. Le strutture sanitarie nissene aprono le porte ai cittadini di tutte le età per consulti al Dipartimento di Salute Mentale di Via Chiarandà e per le donne all'ospedale Sant'Elia, oltre all'installazione di tre Infopoint che saranno operativi fin dalla mattina di lunedì al piano terra sempre dell'ospedale Sant'Elia, in Piazza Falcone e Borsellino e al Parco Dubbini. Tra gli eventi a corredo anche la serata musicale in un locale di Via Rosso di San Secondo a partire dalle 20 di martedì 11 ottobre. La giornata della salute mentale rappresenterà dunque un momento ulteriore di apertura alle persone che ritengono di avere bisogno di un aiuto esterno di tipo psicologico psichiatrico e anche un'occasione di sensibilizzazione verso chi vede la necessità di un supporto come qualcosa che lo qualifichi come diverso, come non normale. Aspetti questi ultimi che purtroppo sono dettati da ignoranze e pregiudizi di una società che spesso si limita solo alla superficialità e all'esteriore. Ai nostri microfoni il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Caltanissetta Massimo Cacciola. Il Dipartimento di Salute Mentale in occasione della giornata mondiale della salute mentale aprirà le proprie porte di servizio ai cittadini di Caltanissetta affinché tutti possano liberamente venire a vedere come funziona un Dipartimento di Salute Mentale e in occasione della visita che potranno fare capire a che compito è preposto il Dipartimento. Il Dipartimento è preposto al compito di ascoltare l'altro, l'altro che soffre, l'altro che ha bisogno ed aiutarlo a comprendere la natura della propria sofferenza che alcune volte è intrapsichica, alcune volte è sociale, alcune volte anche familiare e questo livello di comprensione è il passo iniziale per indicare la strada per uscire dal disagio, per curare, prendersi cura del disagio personale, familiare e anche sociale. Ovviamente questo è possibile farlo a tre livelli del Dipartimento, la salute infantile, la salute degli adolescenti, la salute mentale degli adulti e anche per quanto riguarda il campo delle dipendenze, le dipendenze che non sono più soltanto le dipendenze da sostanze ma anche le dipendenze comportamentali. L'obiettivo altro del Dipartimento di Salute Mentale con questa giornata sarà quello di aiutare tutti i cittadini a liberarsi dallo stigma della patologia mentale e liberarsi anche dall'isolamento nel quale molte volte sono ricacciati, dall'ambiente nel quale vivono, dalle famiglie nelle quali abitano e nelle città che non sempre sono disposte ad accoglierli.